Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono GioPa17 e oggi vi do il benvenuto in un nuovo video dedicato a Camp Cretaceous. Sono molto contento che il primo video di questa miniserie vi sia piaciuto e oggi vi riassumerò brevemente la seconda stagione di questa meravigliosa serie tv. Dopo aver scoperto di essere stati lasciati sull'isola, il gruppo di ragazzi raggiunge Main Street, dove trovano dei walkie-talkie, una telecamera funzionante e informazioni su un radiofaro di emergenza situato sull'isola. Nel frattempo, Darius inizia a soffrire di gravi allucinazioni, vivendo nuovamente la morte del compagno Ben e del suo defunto padre, Frederick. Il giorno successivo, il gruppo scopre che il tirannosauro del parco è entrato in Main Street e ha costruito una piccola tana con oggetti di scarto, tra cui un albero finto contenente il radiofaro. Cercando di recuperarlo, Darius e Kenji visitano la tana dell'animale, mentre Brooklyn e Sammy distraggono il dinosauro, consentendo al resto del gruppo di inviare un segnale di soccorso. I ragazzi tornano a Camp Cretaceous, parzialmente distrutto, dove Kenji decide di restare per prendersi cura di Yaz, che si è slogata alla caviglia, mentre Darius, Brooklyn e Sammy si avventurano alla ricerca di forniture mediche in una clinica vicina. Una volta arrivati, il gruppo trova cibo, ma incontra anche dozzine di dinosauri in gabbia e affamati. Mentre decidono sul da farsi, due Baryonyx li attaccano, e per proteggersi i ragazzi liberano tutti gli altri dinosauri che imbizzarriti attaccano i predatori. Prima di andarsene, Darius nota un terzo Baryonyx chiuso in gabbia. Al solo pensiero di lasciarlo morire lì, si sente malissimo, e quindi libera pure lui, che si riunisce agli altri due. Di ritorno al campo, il gruppo inizia a lavorare alla costruzione di un riparo sull'albero, mentre Brooklyn sente strani rumori che la conducono ad un mucchio di piante congelate. Dopo aver costruito la loro casa vicino ad un fiume per accedere all'acqua, il gruppo scopre che è stato prosciugato. Mentre Darius e Kenji rimuovono una diga di recente costruzione e scoprono un abbeveratoio in cui tutti i tipi di dinosauri si riuniscono in modo pacifico per bere acqua, Brooklyn, Yaz e Sammy trovano delle prese d'aria sotto alcune piante e ritrovano il laboratorio di genetica. Dopo aver scoperto che la struttura potrebbe essere collegata alla Manta Corp e potrebbe costudire un progetto segreto del dottor Henry V, il trio è costretto ad andarsene a causa della famiglia di Baryonyx. Tuttavia, prima di partire, il gruppo prende una busta dal titolo E750, contenente vari codici e una tessera magnetica. Di ritorno al campo, il gruppo riunito festeggia e riesce a intravedere un falò, portandoli a credere che potrebbero esserci altre persone sull'isola. Correndo verso il fuoco, il gruppo trova una taciturna guida turistica di nome Up e due ecoturisti di nome Mitch e Tiff, che raccontano al gruppo che una barca li verrà a riprendere tra due giorni. Mentre il resto del gruppo decide di passare la giornata a guardare i dinosauri, Brooklyn e Kenji decidono di indagare su Up, dopo essere diventati sospettosi, ma vengono sorpresi mentre cercano di introfolarsi nella sua tenda. Qualche istante dopo, i due ragazzi scoprono che sta parlando con qualcuno tramite un walkie-talkie e gli dice che si prenderà cura dei bambini da solo. Dopo essere stati inseguiti in un vicolo cieco, Brooklyn e Kenji rimangono in trappola, quando di colpo Up viene colpito da un ramo, cadendo svenuto, e Ben si riunisce al gruppo insieme a una Bumpy alquanto cresciuta. In un flashback, si scopre che Ben è sopravvissuto alla caduta senza ferirsi. Decidendo di cercare il segnale di emergenza sull'isola, inizia il suo viaggio verso Main Street insieme a Bumpy. Dopo diversi giorni difficili e in continua lotta per la sopravvivenza, Ben si arrabbia con Bumpy e gli urla contro, costringendola a scappare. Il giorno successivo decide di combattere il Carnotauro Toro e lo mette in fuga con l'aiuto decisivo di una Bumpy ormai cresciuta. Subito dopo, Darius, Yaz e Sammy scoprono che Mitch e Tiff sono in realtà cacciatori di grosse prede, che cercano di uccidere sadicamente i dinosauri sull'isola e sono costretti a condurre i due all'abbeveratoio. Nel frattempo, Up cerca di aiutare Brooklyn, Kenji e Ben, conducendoli su una barca. Tuttavia, il gruppo viene aggredito dai Baryonyx e Up decide di riscattarsi sacrificando la sua vita per proteggere i ragazzi. Yaz riesce a scappare e trova Brooklyn e Kenji dicendo loro che Darius sta segretamente conducendo Mitch e Tiff a Main Street. Informati della situazione, Brooklyn, Yaz, Kenji e Ben usano i tunnel sotterranei per arrivare in una stanza di sorveglianza e guardare cosa sta succedendo. Dopo che il T-Rex arriva e spaventa Mitch e Tiff, Darius e Sammy riescono a comunicare con il resto del gruppo e a dirgli che i due bracconieri stanno andando all'abbeveratoio per uccidere i dinosauri. Per salvarli, il gruppo decide di portarli lontano dall'abbeveratoio e causargli una brutale ma meritata morte. Mitch viene divorato dal tirannosauro. Tiff, dopo essere riuscito a salire sulla barca, muore per mano dei Baryonyx. I ragazzi, ancora una volta, sono bloccati sull'isola. Nel frattempo, una misteriosa creatura riesce a fuggire da una stanza numerata E750. E rieccoci qua! Sono molto contento che Ben, alla fine, sia riuscito a sopravvivere alla caduta dalla monortaia e, se ci fate caso, il suo intervento alla fine risulta abbastanza importante per fermare i due bracconieri. Come sempre, ragazzi, nella sezione commenti sotto il video, scrivetemi pure un messaggio e fatemi sapere qual è il vostro episodio preferito di questa stagione, qual è, tra tutti gli animali che appaiono nei vari episodi, il vostro dinosauro preferito. Come sempre, ricordatevi anche di lasciare un bel mi piace, condividete questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella e noi ci rivediamo in un prossimo episodio dove vi riassumerò la terza stagione di Camp Cretaceous. Alla prossima!